Contento e onorato, assolutamente. Per me è una grandissima opportunità per quanto riguarda la mia carriera e come ho detto ringrazio Lavellino di avermi dato questa grandissima opportunità e spero, sono felicissimo innanzitutto di essere arrivato e spero di dare il meglio per quanto riguarda me sono quello che ci metterà proprio tutto l'impegno possibile per farsi gioire con i miei compagni e con i tifosi. Il mister comunque in parte l'ho conosciuto, lo stadio l'ho conosciuto per quanto riguarda il momento solamente d'avversario quindi so che è assolutamente una curva favolosa, carica, ogni volta che comunque giocavo alzavo gli occhi c'era proprio tutto il muro dei tifosi quindi mi aspetto naturalmente un ambiente caloroso, un ambiente dove carico con tantissima voglia di vincere, infatti fino a due mesi fa purtroppo non si è sfiorato il gran colpaccio e speriamo di tagliarci le stesse soddisfazioni anche quest'anno. Fisicamente mi sono allenato comunque da solo perché comunque era in attesa di notizie come naturale che sia mi metterò di impegno con il prof fin da oggi e cercherò di lavorare il più possibile per mettermi in pari comunque con la squadra. Io ho giocato davanti alla difesa anche come mezzala generalmente quindi sono uno che comunque si adatta e va bene così, adesso in base a quello che mi chiederà il mister cercherò di accontentarlo assolutamente. William, per te un po' un ritorno alle origini, tuo zio lavora qui ad Avellino nella scuola e tuo fratello è nato ad Avellino? Sì, diciamo che sono in parte di casa perché i Natale li faccio qui, mio zio ha sua moglie di Avellino, lui lavora ad Avellino e sono in parte di casa, diciamo così, non mi è nuova questa città quindi sono felicissimo di essere arrivato, è onoratissimo.